Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista e esperto in fitoterapia. Ti ho mai incontrato di rincontrare un amico d'infanzia dopo tanti anni, dopo tanto tempo? Però se sei una persona smemorata, che già di suo non si ricorda dove ha messo le chiavi della macchina quando deve uscire di casa e ci perde tanto tempo, e ha sempre paura di non ricordarsi le cose, perché le cose che avvengono anche tanto tempo fa, oltre a quelle date dalla sbadataggine, dal fatto che non siamo presenti in ogni momento, come ad esempio le chiavi della macchina prima di uscire di casa. Allora mi giro e mi rivolto dentro casa per cercare le chiavi della macchina e poi uscire. Allora pensa che quel tipo di persona è preoccupata quando incontra un amico dopo tanto tempo, che gli comincia a dire, ah ti ricordi in quella vacanza di dieci anni fa, quando siamo andati in quel bar, ma ti ricordi quel gelato? E tu stai lì e dici, bah oddio non mi ricordo completamente nulla, cioè il vuoto totale, e stai lì e a un certo punto dici, sì sì, lo tratti quasi con sufficienza, e hai proprio un problema di ricordo. Questo è un problema che adesso ho fatto una scenetta molto semplice, ma è un problema veramente invalidante, è un problema importante, perché andando avanti nella vita le persone tendono a dimenticarsi le cose. Ora, io ho sempre immaginato il nostro cervello come una grande libreria, come una grande biblioteca, e man mano che andiamo avanti nella vita, ogni cosa che vediamo, ogni cosa che leggiamo, ogni cosa che studiamo, è come se la andiamo a scrivere, la andiamo a trascrivere e quindi la conserviamo in maniera ben catalogata all'interno del nostro cervello. Però nonostante magari siamo persone che continuano a studiare, magari sei un professionista, sei una persona che lavora con i numeri, che lavora con la mente, che cosa succede? Succede che spesso se qualcuno ti chiede un qualcosa che hai letto o che hai studiato un po' di tempo fa, ci devi pensare, ti resta qui sulla punta della lingua e quando dici la so, la so, la so, ma in quel momento non riesci a raccoglierla. Poi dopo un po' a fatica ti torna alla mente quel pensiero, quella cosa che hai letto, e magari riesci a dirla al momento, oppure passano dei giorni che tu continui a pensarci e impieghi tanto tempo per andare a ripetere quel file. Quindi immaginati questa libreria, questa biblioteca piena di libri, catalogati bene, altri catalogati male, post-it a destra e a sinistra. Ora il problema è che invecchiando, andando avanti nella vita, si genera stress ossidativo, si generano tossine e quindi è come se le scalette di questi omini che devono andare a cercare informazioni in mezzo a questa biblioteca, in questa libreria, faticano sempre di più. Quindi il pensiero diventa, pian piano che vado avanti nel tempo, più lento, la velocità di pensiero, la velocità di comunicazione, e a volte fammi pensare oddio, cos'è che vi devo dire, non me lo ricordo. Allora la velocità di pensiero, cioè questo è il livello, non riesco più ad articolare dei discorsi, non riesco a ricordarmi i nomi delle persone, non riesco a ricordarmi cose che sapevo bene e che so di sapere, ma non riesco ad esprimerle. Allora a questo punto dobbiamo assolutamente, in qualche maniera, salvaguardare il mitocondrio. Il mitocondrio è quell'unità funzionale all'interno delle nostre cellule che permette di farle funzionare più velocemente. Quindi ci sono molte piante, come ad esempio il ginkgo biloba, che va a migliorare la microcircolazione a livello cerebrale. Il ginkgo biloba è molto interessante, migliora la microcircolazione, il che significa che più nutrienti, più ossigeno e più nutrienti arrivano a queste cellule. Poi devo sicuramente inserire dei micronutrienti, come le vitamine B12, la vitamina B6, l-acidilcarnitina, sono tutti dei micronutrienti che servono per far avvenire l'utilizzazione di questo glucosio delle cellule da parte del nostro ciclo di Krebs, quindi quel laboratorio che mi porta all'ATP e all'energia. Poi piante come il ginseng, l'elettorococco, che migliorano il metabolismo glucidico e vanno a migliorare la velocità di pensiero. Quindi utilizzare ad esempio queste piante per un problema di memoria scarsa, di affaticamento mentale, o anche adesso che fa tanto caldo, siamo stressati, abbiamo una carenza di magnesio, questa ci porta ad avere tossine, ad avere infiammazione e il pensiero diventa sempre più difficile concentrarsi. Allora questa composizione di piante fa il caso tuo, quindi sicuramente per migliorare la funzionalità cognitiva del soggetto, quindi la memorizzazione di nuove cose che devo memorizzare se sono in veste di un esame, o la velocità di pensiero, la velocità di comunicazione e il poter reperire velocemente informazioni che ho accumulato anche nel periodo un po' più vecchio. Io ti ringrazio per l'attenzione e segui i miei consigli. Ciao!